C'è Cesca eh Sì sì oggi ci siamo tutti C'è Anna eccetera eccetera Sì sì tranquilli oggi ci siamo tutti Lo speciale da 4 milioni Ragazzi ma a sto punto Non facciamo prima ad arrivare ai 5 Cioè la butto lì eh Facciamo prima ad arrivare ai 5 O un doppio speciale per i 5 milioni Perché Cioè avete capito No? No? Sì no Speciale migliore per i 5 o due speciali Perché i 4 milioni non lo so Io avevo un'idea Però poi non sono riuscito a farla Quindi è stato un po' un problema No eh vabbè scusate Io l'ho detta No vabbè Se esce Anna come editatrice di nuovo Non la facciamo fare Riestraiamo di nuovo Non si può essere due volte Dai anche io Penso che se riuscissi Dovrei rifare Comunque adesso ci Ci spostiamo Anzi ci spostiamo Anna prima